Quali sono gli step necessari per fare una cottura a biscotto nel fornetto magico? Vediamo insieme. Ah, non questo biscotto. Ah, questo. Voglio darvi subito un consiglio su quali argille utilizzare nel fornetto magico. Essendo quella nel fornetto magico una cottura super veloce, vi consiglio di utilizzare sempre argille refrattarie o semirefrattarie, o aggiungere della sciamotta ai vostri impasti, in modo che il pezzo che abbiamo creato non risenta troppo dello shock termico. Ho testato anche comunque le classiche argille grigia e bianca, che si sono cotte senza nessun problema. Al contrario della cottura a smalto che vi lascio qui sopra, per la cottura a biscotto dobbiamo seguire un programma a fasi, dove partiremo dal vattaggio più basso del nostro microonde, pian piano salendo appunto di potenza, e avendo delle pause tra uno step e l'altro. Allora, imposto i primi 5 minuti a 150 watt. Una volta terminato aspetto altri 5 minuti. Poi 5 minuti a 200 watt, pausa ancora 5 minuti. Poi 5 minuti a 300 watt e aspetto ancora altri 5 minuti. Poi 5 minuti a 450 watt con pausa di 5 minuti. Poi aumento a 600 watt per 5 minuti con una pausa più bassa di 3 minuti. E poi gli ultimi 30-35 minuti a 800 watt. Vedrete che in totale più o meno prenderà da un'ora e venti a un'ora e mezzo per fare la cottura a biscotto. È lievemente più lunga della cottura a smalto, ma se non procedessimo in questo modo, i nostri pezzi potrebbero rompersi nel fornetto. Se il nostro forno a microonde non ha esattamente gli stessi vattaggi, ci possiamo avvicinare a quello più simile. Quindi per esempio se non avete i 200 ma i 250 va bene lo stesso. Dovete fare un po' di pratica e dovete capire qual è il setting migliore per il vostro microonde. Chiaramente una raccomandazione importantissima. Prima di fare la cottura a biscotto dei nostri pezzi nel fornetto magico, dobbiamo assicurarci che i nostri pezzi siano completamente asciutti. Nonostante noi andremo a fase nel forno a microonde, comunque dobbiamo assicurarci che non ci sia acqua presente nei nostri oggetti. Proviamo quindi a effettuare la cottura a biscotto di questa tazzina nel fornetto magico. La inseriamo nel fornetto magico, inseriamo nel microonde e seguiamo la curva di salita. Dopo aver cotto a step la nostra tazzina è passata più o meno un'oretta, un'oretta e mezzo. Io ho aspettato un'altra mezz'oretta perché si raffreddasse, quindi siamo pronti per aprire il fornetto magico e vedere il risultato. Sentiamo un po'. Vedete il risultato è venuto perfetto, il suono è buono. Avete visto come andando così piano riusciamo ad ottenere una cottura a biscotto perfetta. Se avete qualsiasi domanda o dubbio sul fornetto magico o sulla cottura a biscotto potete lasciare un commento al video, scrivere un'email all'indirizzo che vi lascio qui sotto. E come al solito se questo video vi è piaciuto condividete, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdervi nessun altro dei video che pubblicherò sulla ceramica. Ci vediamo presto, buona ceramica a tutti! Ciao! Grazie a tutti!